Buonasera, nuova puntata di A tutto campo. Dunque l'aghezzo che cade di nuovo in casa del Renate, una di quelle società che magari non sono di blasone, ma andarci a giocare in casa loro non è simpatico. Ricordo che due anni fa l'aghezzo era andato sotto anche con Capuano, poi si salvò con un gol di Erpen. Anche in quell'occasione, se non ricordo male, Scacca Barozzi comunque fece un'ottima partita e poi l'aghezzo appunto pareggiò su punizione con Erpen. Questa volta invece è arrivata la sconfitta, qualche occasione non realizzata e il Livorno che si rifà sotto con l'aghezzo dunque agganciato proprio dalla squadra che aveva battuto la scorsa settimana. E quindi anche il terzo posto, ma anche il secondo che rimane lontano a sei punti, ma anche la terza posizione più sicura perché questa Gianna Erminio ha pareggiato, ma insomma è una squadra che è quella che ha fatto più punti in trasferta, che questo insomma è un dato curioso. Ne parliamo con il collega Luigi Alberto Dini, buonasera. Buonasera a tutti voi. E ritroviamo Lorenzo Sereni, buonasera Lorenzo. Allora, io partirei da Gigi chiedendo, ecco, una sconfitta, molti dicono, molti tifosi, no? Si legge anche su Facebook, sostengono un po' che arrivati a questo punto insomma si pensa già ai playoff. Altri dicono non c'è peggior errore perché se ti rilassi adesso poi bisogna vedere. Magari non è una cosa voluta, i playoff saranno molto lunghi. Tu come la vedi? Sai, qui bisognerebbe essere all'interno anche, avere un rapporto setto con il preparatore. Poi la verità sta anche nell'organizzazione di questo, nel senso che potrebbe essere che l'Arezzo anche a livello fisico, qualche giocatore effettivamente anche a livello fisico è sembrato un po' calante, potrebbe essere che si sta preparando il playoff. È chiaro che c'è la paura di perdere anche dei punti che possono risultare fondamentali per il prosieguo. È un Arezzo che fa un po' fatica nelle ultime partite. Con il Livorno è stata quella magia di Moscardelli che ha forse anche un po' nascosto questo momento di difficoltà. È anche vero però che insomma forse è il primo vero momento di difficoltà così lungo durante il campionato. Sono positivo, siamo comunque in terza posizione e voglio essere positivo almeno in questo momento perché poi sarà fondamentale anche le prossime partite. Pistoiese, Piacenza e Pontevera sono partite importanti tra l'altro in pochissimo tempo perché se non sbaglio con il Ponte d'Era in casa sarà infrasettimanale, quindi quattro giorni dopo, tre o quattro giorni dopo. Anche lì il ricambio degli uomini sarà importante se non fondamentale. Lorenzo, tra l'altro l'Arezzo è una squadra che, lo dicevamo prima di cominciare, ha fatto più o meno gli stessi punti, cioè il rendimento tra andate e ritorno alla stessa giornata è sostanzialmente identico perché l'Arezzo aveva fatto 21 punti in questo momento del giorno di andata, ne ha fatti 20 in questo giorno di ritorno grazie soprattutto alle vittorie all'inizio del giorno di ritorno e quindi si può dire forse che il valore, che sia un valore a livello tecnico, valore a livello di convinzione, di agonismo, tutto quello che vogliamo, il livello probabilmente è questo. Giustamente diceva Gigi che bisogna essere contenti perché alla fine l'obiettivo che la società aveva detto alziamo la famosa sticella e effettivamente rispetto agli ultimi campionati la sticella è stata aumentata. Certi acquisti come Moscardelli, come altri, non tutti hanno reso come ci si attendeva e poi il tipo di campionato fatto hanno inevitabilmente alimentato le aspettative fino addirittura a pensare di poter arrivare a quantomeno secondi. Sì, questo è vero, al di là del fatto che le aspettative ce le facciamo noi che siamo osservatori o tifosi di calcio dell'Arezzo in questo caso e quindi ci facciamo le nostre disquisizioni diciamo così del lunedì, del bar, però sinceramente i dati poi sono quelli che rimangono. Come dicevi tu c'è stato equilibrio fra il giorno di andata e il giorno di ritorno e quindi significa che al momento i valori espressi da questa squadra questi sono, insomma, che non sono male, diciamo così, facendo, tornando indietro un attimo, no? Perché era un po' che non vedevamo l'Arezzo, diciamo così, protagonista in un campionato di questo livello essere trezzi in classifica. Certo, rimane il rammarico perché questa squadra, per il mio modesto punto di vista, dà a vedere o ha dato a vedere delle potenzialità che con un pizzico di convinzione in più, un pizzico di fortuna perché ci vuole tutto, poi nel calcio per arrivare, diciamo, poteva fare magari anche qualcosina di più, ecco, questo è il mio modesto parere, sinceramente. Però nessuno ha mai parlato di vincere il campionato, nessuno ha mai parlato di alzare l'astricella, sì, ma non a quei livelli là, perché sulla carta all'inizio c'erano delle squadre che erano fuori categoria rispetto all'Arezzo, no? Tipo Alessandria, Cremonese, eccetera, insomma. E quindi, secondo me, essere lì, proprio dietro a loro, diciamo che al momento può essere una cosa che deve soddisfare, insomma, almeno noi che lo viviamo dall'esterno. Allora, vediamo cosa ha detto Sottili, lo leggiamo da Tutto Lega Pro, all'Arezzo è mancato il gol, abbiamo creato tante situazioni per poter pareggiare, se andiamo a vedere alla fine dei giochi, le occasioni concessi avute non c'è parità, ma conta chi la butta dentro, fino al momento del gol Borra non aveva fatto neanche una parata, ma loro sono stati poi bravi a sfruttare un nostro disimpegno errato. È chiaro che quando vai sotto e sei costretto a operare i cambi con due giocatori neppure al top, la squadra un po' perde in quantità e lucidità, anche se i ragazzi hanno provato comunque a trovare il gol per portare a casa almeno un punto. Qualche domenica fa avevamo creato meno rispetto a quanto creato oggi, contro una squadra che in casa è quarta dietro alle prime tre, perché come punteggio tra le mogamiche ha fatto benissimo, è squadra ostica che sta bene fisicamente. Il terreno di gioco non c'è stato di aiuto, anche se c'è da dire che pedalizza anche Renata e questo va bene, che è abituato a giocare. Adesso si sta zitti e si pedala. Il campionato entra ora nel vivo, noi dovremmo essere anche bravi a capire come dosare l'energia e in 17 giorni ci troviamo a giocare 5 partite. Questo vale ovviamente per tutti. staghe e zitti, non sottili, che fin qui è stato bravo anche forse nei momenti di gestione ambientale, soprattutto nelle ultime settimane. Sai, è un periodo, sicuramente è stato un periodo particolare questo. Credo che sia giusto anche dividere le due situazioni, c'è la parte prettamente sportiva e quella che ha riguardato la società. Credo che questa sia un po' anche una divisione che un po' tutti i tifosi stiano facendo, perché è innegabile che dopo l'ultima querelle che si è creata, la simpatia nei confronti della società sia andata un po' a scemare. Credo che però Sottili sia stato bravo nel creare, nel fare da chioccia a tutto l'aspetto sportivo e questo gli va dato atto perché è fondamentale cercare anche di astrarsi un po' da tutta la situazione che si era creata ma che si è creata e che ancora continuerà perché comunque qualche strascico ci sarà e di questo ne devo dare merito. Se posso fare anche una piccola critica, una critica che vorrei fare e che voglio fare a Sottili è, obiettivamente il modulo, si cambia tanto il modulo e i giocatori, se ripensiamo all'ultima cavalcata che abbiamo fatto, che ci portò alla Serie B, noi abbiamo ben chiaro gli undici, le tre sostituzioni, la famosa formazione a memoria. Questo forse può essere anche un dato a favore suo, nel senso che probabilmente da ora in poi o magari anche nei play-offs c'è da gestire, come ti ho detto prima, tre partite nel giro di pochi giorni, sicuramente ci sarà un ampio, credo, turnover. Però ecco, forse fino a questo momento è stato bravo a tirar fuori delle situazioni difficili e sottili, però se dovessi dare, dire, parlare nei prossimi anni di un'impronta fino a questo momento che è chiara, che l'Arezzo ha, farei e faccio un po' di fatica, questo sì. Sono d'accordo con te anche all'inizio della parte iniziale, perché non a caso poi l'Arezzo ha cambiato più di mezza difesa. Ha trovato la quadratura. Ha trovato la quadratura a quattro, adesso a tre, col fatto che Luciani si è fatto male. Vediamo un attimo lo schema che ha schierato Sottili, a me, con il Renate. C'è questo infortunio di Luciani e Sottili ha insistito con la difesa a tre, ripescando Muscat, che comunque ha fatto abbastanza bene fino a questo momento, però certamente questo cambio di modulo, forse obbligato, forse si poteva trovare un'altra soluzione, è arrivato dopo che l'Arezzo invece aveva schierato la stessa formazione, infatti le grandi vittorie erano arrivate con quello stesso modulo, stessi giocatori. Sai, poi chiaramente non essendo dentro quello spogliatoio, gli equilibri li conosce, penso che li conoscerà, anzi è giusto che li conosca a me di tutti i Sottili. È chiaro che io ad esempio Yanga come quinto di destra, fare tutta la fascia, lo vedo un po' sacrificato, poi sicuramente colpa anche sua di non aver dato quello che poteva, però è un giocatore prettamente offensivo, se si deve occupare anche della fascia difensiva è un po' sacrificato, altro conto quando c'è Sabatino magari sulla sinistra, quindi non è un 3-5-2 ma probabilmente è un 4-3-1-2 mascherato, insomma credo che questo possa fare la differenza. non lo so, diciamo che avere una formazione continua ti crea problemi con tutti gli giocatori che magari non fanno parte esplicitamente dei 11-14, però ti dà la possibilità di avere un'idea ben chiara e di andare anche con alcuni automatismi. Perché infatti Lorenzo all'inizio stagione, prima che poi ci fosse la cessione dei difensori che sono stati ceduti da qui Sirri, la difesa è cambiata varie volte con i protagonisti fino a trovare poi in Solini e in Barison adesso i due titolari quando erano a 4 ma giocano anche con la difesa a 3, quindi queste modifiche, poi l'allenatore è nuovo, ci vuole anche tempo per fare questi esperimenti, secondo te questo può avere un po' rallentato in certe fasi il cammino dell'Arezzo? Ma ovviamente io credo che un gruppo funziona meglio quando ha più certezze gli dai e più ovviamente funziona meglio, è chiaro che gestire come diceva Ligi prima un gruppo tenendo una formazione diciamo base e variare molto poco è chiaro che diventa più difficile la gestione di chi sta fuori, di chi gioca meno, ovviamente però d'altronde nel carcere girarchie, io vedo che quando ci sono le partite importanti le grandi squadre giocano sempre quelli, i giovani più bravi giocano, non è che è fatto così, io credo che le certezze vengano da anche da questi aspetti qua, la consapevolezza diciamo così, poi dopo dipende insomma gli allenatori nuovi, i più giovani eccetera hanno questa maniera di interpretare il calcio cambiando i moduli nella stessa partita, ho visto delle cose insomma immaginate che cambia 4-5 volte il modulo nella stessa partita quando è già difficilissimo applicarne uno, uno e mezzo solamente i più bravi lo fanno, non parliamo oltre perché secondo me è follia pura, quindi questo è un mio modesto pensiero, io credo che i ragazzi che vanno in campo più quelle cose devono sapere, quelle cose che devono fare e dopo ci devono mettere ovviamente del suo ma non li puoi confondere o portargli via dalla testa 300.000 cose e poi dopo alla fine qualcosa paghi insomma perché mi sembra anche il gol che abbiamo preso, è vero se sbrato palla in uscita, poi però il posizionamento avevamo sempre un tempo di gioco diciamo in ritardo per cui abbiamo fatto fatica a chiudere, ci hanno fatto gol, ci hanno punito insomma pesantemente è anche vero che gli allenatori ci direbbero che l'importante non è il modulo ma il concetto di gioco e quello no, questo è opinabile è opinabile, no no per carità infatti faccio giornalista, non faccio allenatore così posso dire, io l'ho fatto per qualche anno ma se fosse così opinabile perché ci perdono tutto questo tempo, no? devi cambiare, cosa questo andrei a chiedere, no mi sono permesso però no no, hai fatto la verità, no nel senso quando parli di moduli dicono sempre sì però come viene interpretato cioè il terzino piuttosto che l'esterno, piuttosto che l'interno di centrocampo dipende certo, il modulo deve essere funzionale anche ai giocatori, al materiale umano, alle risorse umane che ha a disposizione ovviamente sia dal punto di vista tecnico che atletico è anche interpretativo ovviamente però è matematico che l'uomo è come sempre quello, non è che l'uomo cambia a seconda sia più bravo o meno come giocatore però la sua capacità recettiva anche a livello psichico diciamo di varie tematiche non è che sono dei robot perché sono professionisti del calcio, sono ragazzi e giovani che voglio dire con un certo tipo di allenamento gli puoi far automatizzare certi meccanismi che poi riportano durante la prestazione ma al di là di questo più cose metti in ballo e più chiaramente sottoponi a stress anche voglio dire i ragazzi Allora c'è poi questa Alessandria che ha avuto questo calo, battuta ancora, quinta sconfitta delle ultime sei trasferte per l'Alessandria, questo per dire che l'Alessandria che perde a Siena, che insomma ne aveva perse diverse in casa la Cremonese che perde a Pistoia 3-1, quindi diciamo sembra tutto fatto perché l'Alessandria alla fine lo vinca benché sicuramente la più forte, però non hanno approfittato diciamo le avversarie Livorno perché ha avuto un sacco di infortuni la Cremonese a un certo punto si era ripresa, adesso poteva avvicinarsi molto all'Alessandria poi appunto è stata battuta, l'Alessandria a un certo punto quando giocava con la Lucchese, lo ricorderete il pareggio per 0-0 con lo stadio che si aspettava la grande serata, la grande vittoria sapendo che l'Alessandria aveva perso e che l'Alessandria addirittura poteva portarsi insomma a una distanza che non era più impossibile, forse era troppo come sogno ma intanto però poteva, invece da lì stranamente è iniziato un calo perché l'Alessandria ha fatto 5 punti nelle ultime 6 partite, l'Alessandria ne ha fatti 7, quindi per capire che il rendimento è calato molto anche per la squadra di Braglia. Che il rendimento dovesse calare... Non così tanto però. Non così tanto, però insomma che ci potesse essere qualche passaggio a vuoto penso che ce lo siamo immaginati un po' tutti. Probabilmente non avevamo fatto i conti con anche i nostri limiti perché comunque parliamo, l'Alessandria insomma, quando andiamo a vedere anche i giocatori che ha senza nulla togliere i nostri però è ovvio che ha fatto anche un mercato di gennaio ben diverso dal nostro noi abbiamo dovuto trattenere i giocatori che erano fondamentali e però di acquisti a parte Luciani insomma, il secondo Luciani insomma, a parte lui non se ne è fatti niente che va benissimo toccare il meno possibile quando le cose vanno bene probabilmente però ecco, se ci immaginiamo con un ritocco ad effetto, un'aggiunta alla squadra che c'era probabilmente sarebbe potuto essere anche qualcos'altro però ecco, io ribadisco, come ti ho detto all'inizio della trasmissione il terzo posto, l'asticella, quello che era successo anche, che poi anche l'asticella non solo sportiva ma anche societaria fino a due settimane fa si era alzata anche questa si era alzata tutto, dobbiamo essere onesti no, scusami no, no, vai, intanto era questo no, no, volevi concludere, mi era venuto a mettere una cosa mi la dita subito, mi vada via perché dopo io quando mi dimentico le cose è la fine sì, no, volevo dire che probabilmente anche, dico, cioè visto l'andamento dell'Alessandria che aveva fatto nel, fino a qualche mese fa, insomma lì anche a dicembre sì, diceva, inutile comprare o andare sul mercato per arrivare a secondi cioè voglio dire, chiaramente penso che avrà fatto anche a livello tecnico una considerazione diceva bene, vediamo di, stiamo andando bene, bene insomma, diciamo, no, per i nostri programmi eccetera, tanto il campionato non si vince comunque allora magari c'è da fare un mezzo ritocchino, si fa, se capita, poi dopo è capitato poco o niente e allora è andata così, ma non è che, non credo che anche, avendo, perché era impensato cioè è vero che... in quel momento era difficile era difficile, perché l'Alessandria è vero che ha, sta, cioè ora sta facendo molto meno di quello che si poteva pensare però sinceramente, cioè a quel punto lì aveva fatto una serie di vittorie assurde cioè incredibili, insomma, per cui era difficile poter pensare a un primo posto, diciamo ah, questo è assolutamente d'accordo poi se le motivazioni sono queste, non lo so, io parlo, facendo un'analisi, voglio dire così anche da fuori poi, comunque, molti l'avevano previsto, perché le squadre di Braglia tendenzialmente hanno dei cali clamorosi hanno dei cali clamorosi, questo è sempre stato un po' il cedere nervosivo è stato espulso anche sabato sera e, insomma, la squadra, sembra una squadra che, come dicono molti, è più adatta alla serie B che, sai, c'è questi luoghi comunque no, io non lo so, poi se è vero l'ho sentito dire da tantissimi vado alla terza categoria si, si vado a uno questi giochono meglio poi vanno di sopra e fanno 4 e sono le leggende metropolitane effettivamente hanno questo tic-tac che ha i valori tecnici che però è poco concreto in certe partite ma è chiaro che chi ha dei valori tecnici importanti alzando il livello è probabile che nello scontro fisico un po' minore se dobbiamo pensare questo della serie B probabilmente gli dobbiamo dare ragione però ecco diciamo che tenderei anche a trovare altre motivazioni lo sai mi è venuto in mente quando abbiamo parlato di Lulo con Pressore Alessandra non perderà mai il passo forse abbiamo anche avuto il retaggio di quella pistoiese in serie D che non perse un colpo ma è vero potrebbe anche avere ad esempio quella pistoiese non perse un colpo c'era una partita non perse un colpo c'erano sempre quelle torniamo al discorso precedente no no assolutamente la tua analisi quella iniziale sta in analisi io la condivido in toto assolutamente a parte l'ho già detto prima come la Ghezzo anche con l'arrivo di Cenetti e Baggison aveva giocato questo 4-4-2 aveva trovato una quadra sì ma per stare con il modulo A3 voglio dire che deve avere gli esterni che abbiano le caratteristiche fisiche di resistenza particolare io mi sembra più un tornante vecchio stampo ma di quelli che arrivano a metà campo poi ripartono insomma farla tutta la fascia poi perdi lucidità e perdi lucidità dove sei più bravo secondo me io penso l'ho visto giocare varie volte l'anno scorso quest'anno uguale al di là che ha un grande talento quindi sicuramente fisicamente è stralipante deve migliorare molto nella continuità perché proprio si vede che è il classico discontinuo se non sbaglio l'anno scorso faceva bene fuori casa e male in casa quindi aveva proprio peccalità veramente fisicamente è in serata è devastante no no è fantastico non è da Liga Pro no è in serata Cenetti però hai detto Cenetti a me è un giocatore che piace tantissimo e lo vorrei forse vedere ancora di più dico la verità perché infatti non si è capito perché nelle ultime partite non lo so tecnicamente io non lo so io non sono allenatore no no dicevo mi riferivo ora volevo fare un paragone perché dico se Allegri è riuscito a fare a quadrato tutta la fascia quando giocava la difesa potrebbe riuscirci anche sotto lì perché è un momento anche di crescita verso il ragazzo capito non è mica detto se lui ce lo sta provando eccetera probabilmente ha dei parametri che lo può fare poi è sempre il campo che lo dici che decide se è o non è ecco tutto qua allora tra poco quando rientreremo alla pubblicità proveremo a sentire un ex allenatore dell'Arezzo Fabio Fraschetti allenatore Giovanni dell'Arezzo allenò anche per qualche giornata la prima squadra è attualmente fermo dopo credo l'esperienza a pugno però ovviamente segue un po' tutta la Lega Pro quindi sentiremo da lui insomma che giudizi dà anche di questo Gironi ci vediamo tra poco ben tornati seconda parte di a tutto campo allora mentre tra poco tentiamo di allestire questo collegamento telefonico volevo tornare invece su con Lorenzo no sulla vicenda societaria se al di là che adesso sembra tutto diciamo tornato come prima se può avere avuto un impatto anche involontariamente su sull'ambiente quindi tifosi ovviamente come diceva prima Gigi hanno di nuovo questa vicenda alimentato di dubbi no diciamo la fiducia come hanno scritto anche gli ultras è un po' scemata nei confronti della presidenza che dovrà riconquistarsela la squadra pensi che sia rimasta avulsa da questa credo abbiamo già la telefonata però saluto Fabio Fraschetti benvenuto pronto? buonasera Fabio sì buonasera a voi grazie grazie di essere un piacere risentirti io credo che Fabio Fraschetti sia stato uno dei migliori allenatori che l'Arezzo ha avuto a livello giovanile peccato non averti che tu non hai avuto tempo ovviamente per far vedere le tue doti anche con la prima squadra ma insomma hai lasciato sicuramente un buon ricordo ma sì per me è stata un'esperienza importante perché dopo anni di dilettantismo in serie D e di settore giovanile poi grazie alla possibilità che mi diede al fine della terza stagione il presidente Mancini ho avuto anche la possibilità di allenare la prima squadra per tre sole domeniche con le finali andando anche bene perché le vincemmo tutte e tre poi l'anno successivo il presidente mi propose di rimanere ancora nel settore giovanile o di intraprendere la carriera ancora più importante di allenatore professionista e scelsi l'altra strada e quindi abbandonare il resto dove lascio comunque un buon ricordo e dove ho ancora tanti amici allora quella Lega Pro rispetto a quella odierna ecco che nel senso il livello secondo te è aumentato è diminuito che cambiamenti ci sono stati secondo te in questi anni a livello proprio anche di valore del campionato secondo me in generale un pochino si è abbassato il livello non fosse altro per il fatto che molte società adesso anche per quadrare i bilanci si affidano molto di più rispetto a prima ai settori giovanili chiaro che allora c'era una Lega Pro divisa in C1 e C2 se parliamo di C1 di allora dico che in questo momento forse la Lega Pro unica è leggermente inferiore per tanti motivi perché è un momento di flessione credo che si sia innalzato il livello del campionato dilettantistico di Serie D e di pari passo si sia anche un pochino abbassato quello professionistico proprio per una questione prettamente anche economica le società guardano più spesso e più volentieri ai ragazzi giovani piuttosto che a giocatori affermati a noi ovviamente seguiamo molto il giornale dove si trova l'Arezzo chiedati se è fatto di questo girone dove l'Alessandria insomma ha dominato in gran parte ancora a 4 punti di vantaggio sta avendo forse qualche flessione di troppo secondo te comunque ce la farà a vincere il campionato o è in dubbio? ma sulla carta l'Alessandria così come la Cremonese e ci metto anche il Livorno avrebbero dovuto fare un campionato a sé partita fortissima ne ha annellato da subito tantissime vittorie ha creato un solto importante fra lei e le altre e in questo girone di ritorno che sta avendo una flessione notevole anche e soprattutto nelle partite esterne mi sembra che abbia fatto un solo punto nelle ultime sei trasferte riesce comunque a mantenere un vantaggio importante che mi sembra sia di 4 punti sulla Cremonese di 10 su Nillivorno e l'Arezzo secondo me è per Ordiani con la squadra più importante da gennaio anche alternative in più rispetto a quante ne avesse nel girone di andata sta avendo un calo e probabilmente non riescono a gestire l'attenzione non dimentichiamoci che Alessandria è una piazza importante ma è da tantissimi anni che non rifà il campionato di Serie B e forse questo un pochino sta pesando nell'ambiente a livello psicologico però credo che alla lunga abbia le qualità i mezzi anche l'allenatore per poter vincere questo campionato dove credo che tra le sorprese più belle non in assoluto ma sicuramente per calcio espresso e per i risultati che sta ottenendo c'è sicuramente da annoverare l'Arezzo ecco l'Arezzo ha una classifica comunque buona forse un po' tutti gli allenatori avversari prima della partita con l'Arezzo non so se per mettere le mani avanti dicono sempre che dopo l'Alessandria insomma viene l'organico dell'Arezzo non si sa appunto se per poi giustificare eventuali risultati non positivi ti chiedo se sicuramente la classifica dell'Arezzo rispecchia il valore della squadra e che possibilità potrebbe avere ai playoff secondo me ribadisco l'Alessandria per l'organico è la squadra decisamente più forte di questo campionato e il solco che c'è fra lei e l'Arezzo sicuramente è la giusta distanza punto più punto in meno fra i valori delle due squadre la cremonese secondo me è lievemente superiore all'Arezzo nel suo organico tolte queste due squadre l'Arezzo è sicuramente una buona squadra e secondo me il mister sta facendo un ottimo lavoro i giocatori che la compongono sono di buonissimo livello un paio di questi ragazzi hanno avuto il piacere e la fortuna di allenare corrati l'anno scorso a Funio Foglia nei suoi primi anni di Lega Pro a San Giovanni Valdarno e sono contento e spesso e volentieri vengo anche a vedere seguire le partite dell'Arezzo quando mi è possibile il campionato dell'Arezzo è un campionato comunque importante per quanto riguarda i playoff interna all'otta è chiaro che mi sembra ci sia un solo posto per 27 squadre che andranno a comporre la griglia dei playoff quindi al di là di quanto possa essere capace poi di andare avanti uno credo che poi molto dipenderà anche dagli episodi dalla fortuna dallo stato fisico in cui una squadra arriverà in un momento della stagione dove probabilmente anche il caldo farà la sua parte quindi credo che sia intronosticabile una squadra favorita nei playoff appunto sia per il numero delle squadre che arriveranno sia per la lunghezza degli stessi e per la quantità delle squadre che andranno a giocarsi l'unico posto ancora disponibile ecco a questo punto da allenatore proprio perché quest'anno appunto c'è questa novità questa nuova formula dei playoff difficilissima durissima come hai ricordato diciamo la classifica può avere una sua importanza soprattutto per magari avere qualche piccolo vantaggio però considerando quanto potenzialmente sono lunghi i playoff tu da allenatore fossi un allenatore diciamo delle squadre che sono al terzo o quarto posto come può essere la Rezzo il Livorno eccetera in questo momento inizieresti già a programmare un lavoro atletico diciamo in vista dei playoff o bisogna comunque mantenere alta la concentrazione anche per queste ultime giornate di campionato cioè come se i playoff non ci fosse ma sicuramente mantenere alta la tensione farà sì che poi si arrivi comunque in buona condizione soprattutto a livello psichiche per quelle che sono gli spareggi sicuramente qualcosa di più a livello fisico si può fare in funzione del fatto che obiettivi di assoluto livello in questo momento la Rezzo non ha e come lei tante altre squadre credo che sia giusto fare una via di mezzo nel senso che grandi cose a livello fisico se non hai lavorato bene a inizio stagione durante la stagione in questo momento non è che sei in condizioni di poter fare quindi anzi si rischia addirittura di piantare poi la squadra sulle gambe se in questo momento comincia davvero ad essere stanca e accusare la preparazione non idonea quindi io credo che sia opportuno continuare a lavorare in maniera adeguata lavorare settimanalmente sempre con l'obiettivo fisso della domenica con la serenità di poter caricare come è inizio stagione nei primi priori della stagione perché ribadisco poi c'è anche un po' di brillantezza nella domenica che si va a giocare uno non l'ha è paziente è comunque un lavoro che ti ritrovi e comunque abbassare la tensione e dare segnali che l'obiettivo in questo momento non è più quello della domenica può portare sicuramente anche a uno scollamento che non credo che sia opportuno e sia il caso che nella squadra in una squadra venga bene Fabio che ringrazio molto in bocca al lupo ovviamente per il futuro grazie grazie a voi buona serata grazie buona serata allora è interessante il punto di vista di Fabio Fraschetti che ci ha ricordato proprio quanto sono duri i play-off perché anche qui la formula è un po' cambiata nel senso che è un cammino durissimo perché arriverà a giugno inoltrato tra l'altro l'eventuale finale coinciderebbe anche con la giostra del Saracino finale all'Artemio Franchi di Firenze quindi si creerebbe anche una scelta per chi vorrà essere da una parte o dall'altra quindi è durissimo il cammino quindi è anche difficile giustamente fare i pronostici perché poi entrerebbero in gioco le squadre chi vince la Coppa Italia la perdente la Coppa Italia il Gironi Sud eccetera l'obiettivo di Arezzo qual è? Nel senso arrivare alle Final Four penso è importante detto questo ci sono io credo per un secondo anche l'aspetto playoff ti spiego perché c'è anche la Gianna Erminio che sta facendo un ottimo campionato la Gianna Erminio è una società molto particolare nel senso che cura molto il settore giovanile se ne parlava se ne ha parlato anche prima con Fraschetti io penso che ognuno di noi da tifoso e da giornalista da chi vuole bene all'Arezzo dovrebbe un attimino pensare quale sia la sua squadra ideale cioè l'Arezzo come più come Gianna Erminio oppure con qualcuno che di volta in decennio in decennio ti fa vedere magari anche della serie B però poi probabilmente non riesce a mantenerla ecco secondo me dobbiamo anche un attimino ragionare tra di noi su quale qual è l'idea di società che abbiamo perché ora stiamo andando verso una direzione ben precisa si sta partendo dalla serie A ma credo che prima o poi anche qualcuno se ne dovrà occupare a livello anche di ministero nazionale insomma ecco io personalmente scusate questa piccola digressione ma proprio avendo studiato la storia della Gianna Erminio che è un po' simile a quella che poi è l'Empoli e quindi probabilmente avere una squadra più normalizzata su questo aspetto qua mi intrigherebbe molto di più anche con un saliscendi molto minore perché a me io se ho una preoccupazione è questa nel senso che ok quest'anno stiamo facendo un campionato di alta classifica andremo ai playoff sono sicuro che faremo bella figura ci vuole anche quella dose di fortuna necessaria per arrivare in fondo però il prossimo anno cosa succede è vero che alcuni giocatori hanno un biennale però ecco secondo me è importante che l'Arezzo continui sempre che tiri fuori anche dei giocatori interessanti perché poi li vediamo alcuni giocatori che sono passati sono di Arezzo sono passati da Arezzo ma poi sono esplosi da altre parti non lo so questa è una piccola provocazione che vi mando però ecco io personalmente preferirei forse più uno stile alla Gianna Erminio e faccio l'esempio da Gianna Erminio perché ha anche meno storia di noi però ha un modello che è molto interessante perché andare a playoff un anno poi c'è un allenatore che quanti sono? 25 anni che allena Cesare Albe 25 anni che allena questa squadra per carità queste sono particolarità però tra l'altro se ci fate vedere questa grafica che lo ricordavamo prima dei punti in casa e punti in trasferta c'ha giocatori anche come Pinardi c'ha giocatori però ci sono dei giocatori che sono lì da 6, 7, 8 anni diversi che sono proprio il tessuto della squadra e guardate però che ormai sono qualche campionato che fanno la Lega Pro e essere la squadra che ha fatto più punti in trasferta ben 29 cioè quindi viene prima della Cremonese che ne ha fatti 27 l'Alessandria 23 Livorno e Piacenza 22 il Como 21 l'Arezzo 20 questo è un dato che è indicativo magari di che cosa può essere mancato all'Arezzo soprattutto fuori casa ecco una piccola società dalla quale si può però imparare eccola qua vedete già a destra vedete i punti fuori casa vedete che insomma stacca di diversi punti anche d'Alessandria cioè 6 punti poi è vero che in casa è invece una delle peggiori che ne ha fatti 21 però vuol dire che comunque è una squadra di personalità perché andare a vincere fuori casa varie volte significa che c'è Bruno giocatori anche che i gol hanno fatti un po' da tutte le parti l'Arezzo secondo te Lorenzo vedi siccome abbiamo detto prima che prima della vicenda Nuccilli sembrava che l'asticella fosse stata alzata anche per alcune scelte alcune Gemmi ha fatto sicuramente un ottimo lavoro ne parlano tutti bene ma anche gli Aretini si sono dati da fare si può creare secondo te su queste basi un qualcosa di Ducaturo o questa cessione che è andata a buon fine invece è un segnale che contrasta con i segnali dati in precedenza ma allora per fare a parte volevo permettere il discorso che forse lui c'era un ragazzino quando noi facevamo le guerre sui settori giovani all'epoca della Serebino scherzo no ma provi in mente mi dai i miei ultimi meno anni di quelle cose quindi va benissimo va benissimo no 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 ma volevo dire qui hai un paladino sicuramente Fabio era testimone insomma all'epoca abbiamo fatto delle belle trasmissioni insomma ragionando sul settore giovanile sul nostro modello almeno un mio modello di società che è quella a cui ti riferivi te insomma sia l'Empoli oppure l'Atalanta stessa eccetera per fare quello serve serve comunque una società forte che abbia la capacità anche di fare investimenti perché i ragazzi sia sulle risorse umane parlo dei ragazzi e sia su creare una struttura che è chiaramente costosa per portare avanti un settore giovanile di primissimo livello che possa competere con tutti perché Empoli Atalanta eccetera competono con Mila Juventus Inter hanno budget da 16-17 milioni solo per il settore giovanile quindi competere con quelle con quelle potenzialità economiche lì ci vuole dedicare una struttura poi fai con meno però devi lavorare molto bene sul territorio anche fuori dal territorio creando una rete creando insomma tutto un sistema di contatti eccetera per prendere i ragazzi quelli sono quindi se li prendono quell'altro in tocca anche se poi le società diciamo così più forti diciamo più di serie A eccetera parlo di Juventus Mila così preferiscono magari prendere più forte dell'Empoli però non sempre poi questo porta al risultato che vince assolutamente capito perché alla fine poi vincono sempre o tocca al Chievo perché hanno si lavorano bene però la formazione è importantissima è determinata la formazione io mi ricordo ero un calciatore molto molto modesto aiutatemi molto 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 modesto giocavo nel Zubbiano e nelle giovanili diciamo che l'obiettivo era andare a giocare nell'Arezzo per tante motivazioni cioè era proprio era un primo step che chiunque dei miei compagni di squadra voleva fare perché poi ci giocavamo contro e ne prendevamo cinque o sei insomma manca un po' questo sogno secondo me in questo momento è stato è stato fatto un percorso però il sogno anche del bambino del ragazzo che abbia voglia anche di dimostrare perché come ti dicevo è formazione continua il calcio preso nel verso giusto credo che sia veramente una grande scuola di vita anche se chissà chissà solo di calcio non sanno le di calcio sono tante però ecco questo un po' mi manca sinceramente non lo sento non lo senti perché probabilmente è mancato finora la più anche a livello societario perché ovviamente allora l'Arezzo era l'istituzione massima a livello calcistico anche io ragionavo come te anche se ho diversi anni più di te però pensavi che mettevi la maglia a un certo punto speravi di andare a giocare nelle cipolline dell'Arezzo e fare un percorso di un certo livello oggi i ragazzi siccome il calcio lo seguo sempre però raramente senti parlare di quello che vuole andare a fare anche perché l'Arezzo a livello settore giovanile ha iniziato da fare qualcosina o sbaglio perché abbiamo degli esordienti adesso manca la scuola calcio esatto e quindi questo era tornando al discorso Fabio di prima era un discorso che lasciava intravedere un certo tipo di strada imboccata poi si arriva alle vicissitudini ai recetti e uno dice ma che si sta facendo cosa stanno facendo insomma perché secondo me hanno lavorato molto bene come approccio iniziale però da qui arrivare a quegli obiettivi lì te lo sai il calcio nessuno ti regala niente quindi devi metterci sudore devi metterci competenza devi metterci soldi perché servono anche quelli perché la gente chiaramente se lavora bisogna che tu la paghi e quindi non so un'azienda come tutte le altre se tu formi anche i tuoi dipendenti poi a loro volta formeranno delle risorse umane che tu potrai andare purtroppo credo che manchi altre volte quando si parla di società di calcio azienda quasi una parolaccia in realtà oggi è assolutamente così credo che Empoli eccetera non ci sia nessuno che si tratta fuori soldi di tasca non credo andranno per ripienare i bilanci non esiste il loro obiettivo è quello e lo perseguono e lo raggiungono almeno finora l'hanno fatto attraverso un operato d'azienda che ha portato sempre i loro bilanci in pareggio se non diciamo inutile ecco che allora posso solo non voglio dato che sono molto polemico di natura ecco vorrei anche dire dato che tu sei stato molto bravo nel senso che siamo soffermati poco anche su questa polemica comunque uccilli vendita compra vente e ti faccio i complimenti per quello che possono valere da parte mia e io quel messaggio che vorrei mandare e che vorrei dire a tutti soprattutto anche al presidente si può recuperare tutto cioè si può anche trovare il modo di riprendere quello di cui abbiamo parlato cioè di una situazione di una scuola di un settore giovanile adatto delle risorse umane all'interno di una società che comunque sono sinceramente quest'anno non si può assolutamente dire niente alla squadra dal presidente in giù però forse qualche segnale serve quello che secondo me si può riprendere grandi rapporti d'amore hai ragione hai perfettamente non basta la conferenza stampa anzi quella delle due forse ha acuito il perché è andato in crescendo quello che è andato in crescendo anche all'Arezzo con Ferretti e basterebbe poco perché poi l'abbiamo visto ci basta poco anche a noi per essere tranquilli e per vedere che c'è una futuribilità e questo credo che per essere propositivi per diventare sinergici poi con quello che fanno loro insomma perché bene o male leggevo non mi ricordo se era il sito quello dei tifosi del Siena di Fedelissimo o un altro sito non lo ricordo dove commentavano abbiamo letto la settimana scorsa proprio un piccolo straccio della lettera di Lucide a parte che era lunghissima impresentabile diciamo sotto molti punti di vista avevamo letto solo la parte dell'Arezzo però lui spiega poi in questa lettera perché a Siena si era presentato con un altro nome il famoso Monzi uno si immagina la scenetta uno che arriva e sono il Monzi il piacere e insomma il conte Mascetti e poi mancava il conte Mascetti e insomma a Siena hanno risposto a questa lettera insomma in questo sito famoso insomma in modo abbastanza colorito a dimostrazione che la giustificazione del dire noi ascoltiamo tutti quindi alla fine diamo fiducia a tutti insomma è una giustificazione che forse è un po' quanto meno opinabile comunque siamo in chiusura volevo solo dire che a dimostrazione che queste chiamiamo le squadrette ma sono realtà importanti l'allenatore del Renate Luciano Foschi dopo la vittoria con l'Arezzo ha rilasciato delle dichiarazioni che ci fanno capire che non è che il Renate va ai playoff tanto per divertirsi perché lui dice alla squadra avevo chiesto di dirmi se vogliono andare ai playoff da turisti o da protagonisti la risposta è stata eloquente hanno considerato la partita con l'Arezzo come un test di quello che sarà i playoff e sono piuttosto agguerriti quindi non credo che anche giocassi con Renate non è proprio anche in casa non è proprio simpatico insomma così come tutte le altre perché sono tutte squadre ottime sono partite però l'Arezzo è più forte sicuramente beh questo non ci pioca questo non ci pioca tante altre squadre non sempre vincere più forte quasi tutte l'organico dell'Arezzo è un signore organico poi ci sono giocatori ad esempio come Arcidiacono che non hanno reso come pensavamo ma avere in panchina uno come Arcidiacono cioè è un valore aggiunto e indescrivibile poi ci auguriamo che da qui alla fine probabilmente inizierà a entrare a cambiare le partite cioè dobbiamo essere io me lo so vogliamo che lo faccia ai playoff grazie a Gigi Alberto Dini grazie a Lorenzo Seguini lunedì prossimo non saremo in onda di lunedì perché c'è il posticipo Arezzo Pistoiese buona segata buona segata